Ci sono tanti canali di news, alcuni privilegiano l'attualità e la politica, altri lo sport, altri ancora la finanza, lo spettacolo, il gossip, ma ce n'è soltanto uno che utilizza ricontinuo la parola paradossalmente. Paradossalmente l'ostruzionismo dell'opposizione ha sortito l'effetto opposto. La vicenda paradossalmente presenta diversi lati oscuri. Ce n'è soltanto uno che infila la parola paradossalmente dappertutto. E passiamo paradossalmente allo sport. anche quando non c'entra niente. Il nuovo film di James paradossalmente Bond uscirà nelle sale a marzo. Vediamole un'anticipazione. Scusate. Sì, paradossalmente. È nato paradossalmente News Channel. Il primo satellitare di news che dice molti paradossalmente. Paradossalmente, paradossalmente, paradossalmente. Paradossalmente colleghiamoci con la nostra inviata. Sì, mi trovo paradossalmente sul posto. Vi do la linea. A voi paradossalmente studio. Certo, sono tanti bravi giornalisti in video. Ma quante volte dicono paradossalmente? Una, forse due volte al giorno? Da noi si arriva la dozzina di volte al minuto. Significa un paradossalmente ogni cinque secondi. Quando ho iniziato a fare questo lavoro non dicevo molto spesso paradossalmente. Poi col tempo ho iniziato a sciogliermi e a prodare qui è stato naturale. Io ho iniziato presto. Sa come mi chiamavano i miei colleghi invidiosi? Signorina paradossalmente. All'inizio ho sofferto molto, ma poi ho cominciato a essere orgogliosa dei miei successi nel campo del paradossalmente. Se tutto ciò che ti aspetti è normale informazione, allora accomodati. Ma se cerchi il canale di news che si è giudicato il premio 2006 per la miglior testata giornalistica che dice paradossalmente, allora ti aspettiamo. Paradossalmente News Channel. Il coraggio di dire spesso paradossalmente.